A pochi giorni al termine delle festività natalizie, il governo insieme ai tecnici studia ciò che saranno le misure dal prossimo 7 gennaio. La scadenza del decreto natalizio al momento prevista il 6 gennaio potrebbe essere prorogata con un'ordinanza al Ministro della Salute, ma non è l'unica ipotesi in campo. Si va dunque verso la linea rigida anche in vista dei giorni a venire. Le proposte al vaio sono due, quella di mantenere in vigore le misure vigenti fino al 15 gennaio, arancione nei feriali e rossa nel weekend, oppure di tornare in zona gialla per il 7-8 gennaio per poi passare alle misure della fascia arancione nel weekend del 9-10 e successivamente, sulla base del monitoraggio, assegnare le fasce per la settimana seguente. Non da escludere il ritorno in zona rossa nel weekend. Il provvedimento potrebbe essere firmato anche entro stasera e dovrebbe prevedere il divieto di spostamento tra le regioni, ristoranti e bar solo da sporto nel prossimo weekend e ancora il divieto di ospitare più di due persone a casa, tra amici e parenti. Scuole elementari e medie tornano in presenza al 7 gennaio, mentre sulla riapertura delle superiori diversi governatori ritengono che sia decisivo aspettare l'esito del monitoraggio previsto l'8 gennaio e la questione incidentalmente posta ai presidenti di regione durante il vertice di stasera, che ha riguardato invece come oggetto principale le altre misure dopo il 7 gennaio.